A volte è giusto cambiare, sperimentare, provare qualcosa di nuovo, stravolgere le abitudini e percorrere strade non battute. Ecco come è nata l'idea di invertire i nostri ruoli. Se fino ad ora ho sempre filmato e commentato io, oggi cedo tutto a me. Siamo Alice e Daniele, anzi, siamo Daniele e Alice. E in questo video vi portiamo a 2900 metri al rifugio Quinto Alpini, in Val Zebu. Eccoci pronti al parcheggio Fontanelle, da qua partiamo a camminare per la Val Zebu, con obiettivo? Quinto Alpini e il rifugio alla fine della Val Zebu. Comunque sei sicuro che si chiami Fontanelle? Andiamo? Fantelle. Ah, forse Fantelle. Eccoci al primo video. Dove andiamo? Sotto direi. Così, a caso? Sì. Eccoci al primo cartello. Teoricamente questo è il ponte che congiunge la strada che arriva da Niblogo. Qui c'è Alice e avanti! A questa allegra Fontanella alla sinistra. Quinto Alpini e il ponte. Oggi filmo e fa tutto lui, eh! Se volete si affittano. Tramigen. Questa è una bella passeggiata perché è pieno di ponticelli che attraversano e ci sono tutte queste casette tipiche di sasso e legno. Mancano circa 4 chilometri e adesso inizia il pezzettino un pochino più impervio. Infatti abbiamo da fare circa 800 metri di slivello. Lì in fondo è la baita del pastore ed è dove la navetta, se volete, vi lascia. E da lì ci vogliono circa 2 ore. Ecco la scoppiata. Non è vero. Punto di arrivo della navetta, punto di presa dell'acqua, credo per la centrale idroelettrica. Si vede anche il rifugio da qua. Sì, guardatelo sulla, è un puntino. Un puntino giallo che noi dovremmo raggiungere faticosamente. Esatto. Qui davanti Alice è la scalatrice. Hai fatto la rima. Si è. Dicevamo che era Erta, no? Commenti su questa salita? Che ora possiamo fare? Commento breve, breve ma intenso. Come questa salita, breve ma intenso. Ecco cosa ci aspetta. Dai, su la, su la. Com'è? Non si vede. Sassoso, ripido, ma bello. Però seguiamo, ultimo pezzettino. Noi andiamo a sinistra. Dice venticinque minuti. Faccio come fai sempre tu? Eccoci quasi arrivati. Sì Bene, abbiamo pranzato, abbiamo rifocillato i pancini, abbiamo 12 chilometri a ritornare fino al parcheggio, però a minura è tutta discesa e quindi scendiamo. La valle oscura sullo sfondo, wow, noi dobbiamo proseguire giù 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 e poi di là. Eh cameraman, oggi è un cameraman lui eh. Guarda dove ti chiedi se no mi filmi mentre mi rimasto. Ecco. Apunto. Guarda. 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 Eccoci di nuovo sulla strada, qui abbiamo rubato almeno almeno 100 metri, attenzione, siamo a 16 chilometri e 39, dobbiamo arrivare circa a 25, manca ancora un pochino. Ce la faranno i nostri eroi? Ma si dai, se state vedendo il video ce l'abbiamo fatta no? Inizia la parte piana, si iniziano a vedere segni di civiltà, una casa sullo sfondo. Siamo arrivati? No, mancano ancora 7 chilometri Gli ultimi chilometri, dai che ce la facciamo? Quattro e mezzo! Non c'è neanche maniglia che ci aspetta stavolta, ci tocca guidare fino a casa. Ora ci sono anche delle caperette. Ai ai ai, è arrivata un po' d'acqua! Gli ultimi chilometri bagnati! Ultimi chilometri bagnati, ultimi chilometri fortunati! Diciamo così! Ora tocca un po' di salita! Ultimo chilometro e mezzo! Ce la facciamo? Eh, sarà il caso di sì eh! Vogliamo tornare a casa! Salita non impervia, ma dopo 24 chilometri diciamo che si fa sentire! Ho visto la madonna! Sarà vera? È vera? L'ho vista anch'io! Allora siamo arrivati! Quasi! Perlomeno la salita è finita! Oh! Adesso ce l'ho io! Abbiamo svegliato, vabbè! Facciamo una classica chiusura! Grazie, è un fantastico scatto finale! Siamo scappati dalla pioggia al pelo pelo e adesso come vedete... Bagnati poco! Piove tantissimo! Quindi basta, chiudi il filmato! Chiudo il filmato? Chiudi! Cos'è la stomaccheggio? Chiudo! Ci vediamo alla prossima, tutto qua! Ciao! 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 Ciao!